Come possiamo essere sicuri che i nostri allenamenti siano efficaci? Attraverso delle batterie di test, tra i quali i test per il salto verticale. Oggi andremo ad analizzare le strumentazioni specifiche, il verte e la pedana di contatto. Con la pedana si possono eseguire differenti test con diversi scopi, tuttavia richiede una tecnica perfetta. Infatti l'elevazione viene ricavata attraverso il tempo di volo e ogni tentativo di ritardare la caduta potrebbe quindi incrementare questo valore. Il verte invece è molto più pratico, si può testare sia il salto da fermo che il gesto specifico. Ma anche in questo caso la misura può essere sovrastimata. Infatti il solo allungamento del braccio verso l'alto può permettere di raggiungere una quota più elevata. Ovviamente esistono molti altri test più specifici con attrezzature ancora più avanzate, ma non per forza bisogna possederne una. Infatti anche voi potete misurare il vostro salto a casa, con una parete, con un canestro. L'importante è che sia sempre lo stesso, in modo da rendere i vostri test il più oggettivo possibile. Bene, anche per oggi è tutto. Se avete domande scrivete nei commenti e ci vediamo sempre alla prossima puntata. Ciao!